Epetta pace edilizia perché ci sono altre novità o perlomeno in questa puntata di oggi vorrei affrontare e commentare il comunicato del CNI Consiglio Nazionale degli Ingegneri io sono ingegnere Carlo Pagliai quindi commento un po' i comunicati che escano dalla nostra categoria che sta partecipando sta collaborando alla revisione di quello che potrebbe essere ripeto tutto condizionale una riforma generale o anche la pace edilizia allora cominciamo vi presento Carlo Pagliai genero urbanista iscrivetevi al canale whatsapp campanellina e il mio blog studiotecnicopagliai.it oggi versione raffreddata e andiamo a commentare eccolo qui il comunicato vi ho messo il link in descrizione e potete commentare voi che siate in diretta o anche in differita è presto per cominciare a fare le ipotesi ancora non c'è niente qualcuno ha commentato no ma non c'è niente di testi quindi è inutile parlarne ma mica tanto qualcosa c'è i primi exit poll secondo me ci sono e come se ci sono da questo punto di vista io ritengo che invece dobbiamo assolutamente parlarne e allora riprendo il comunicato che avete visto sicuramente o l'avete visto diciamo commentato sui vari portali e ora lo commento io allora intanto l'incontro quello del 4 o 5 aprile quando era verteva su tanti aspetti ce ne ha partecipato quindi a questo tavolo tecnico l'obiettivo è quello di fare anche un nuovo piano casa quindi una nuova politica di dotazione di alloggi la rigenerazione urbana ovviamente non può mancare con l'occasione ovviamente avevano invitato altri enti associazione categoria ok però il punto nodale e qui va scorporata in due parti la riforma e la semplificazione delle norme in materia edilizia che consentirebbe superare una serie criticità tante criticità nel nostro settore per le ristrutturazioni per le compravendite lo abbiamo visto nel super bonus è scritto un fondo è tutte tutte informazioni riportate qui e diciamo l'ufficio legislativo del ministero quindi ministero infrastrutture ha indicato la necessità di mettere in atto interventi in due step quelle a breve termine quella a lungo termine quelle a breve termine rappresentano la priorità di semplificare le norme che consentirebbero superare nel rispetto della sicurezza e l'interesse generale lievi difformità esterne o interne delle singole unità immobiliari e degli edifici secondo caso invece nel lungo periodo e quindi ci vorranno hanno belle si legge tra le righe che bisognerà attendere un altro po' per arrivare a un riordino sostanziale complessivo del testo unico edilizia quindi la riforma del testo unico edilizia di PR380 mi sembra che vada parecchio in là non so quanto ma mi sembra di capire questo nel primo caso invece c'è bisogno di mettere subito una bella una bella norma che mi sciolga i casi forse più semplici più anche frequenti più diffusi ma e questo si rileva nelle anche nei passaggi successivi nel rispetto della sicurezza strutturale d'altronde c'è i cni ingegneri la parte strutturale antisismica a noi poi ci sta molto a cuore ma questo sta a cuore di tutti ok perché poi insomma madre natura al condono non lo riconosce ok andiamo avanti in questo incontro hanno parlato ma ne abbiamo già parlato anche nei video precedenti sul tema della possibile siamo sempre nel campo dell'ipotesi possibile sanabilità delle difformità lievi quanto lievi e soprattutto cosa a che condizione di nuovo che non pregiudicano la sicurezza degli edifici e l'interesse collettivo ma che in qualche modo possano rimettere sul mercato degli immobili che non riescano a essere regolarizzati con il testo di un'edilizia vigente a oggi oggi 11 aprile 2024 questione sanabilità lievi difformità e qui si pone il problema quante volte ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato tra l'altro ne ho parlato anche sul mio ultimo libro stato legittimo immobiliare lo trovate solo su amazon versione cartacea kindle in cui è mai o degli immobili e comunque avevano uno straccio di licenza è l'esempio hanno pure il collaudo strutturale e hanno pure l'agibilità però presentano fin dall'origine variazioni modifiche variazioni anche dimensionali rispetto a quanto legittimato autorizzato o che in epoca successiva sono stati oggetto di interventi che sostanzialmente senza intaccare la volumetria hanno determinato modifiche distributive negli alloggi variazioni di prospetto non prospettiche spostamento e bucature chiusure di balconi verande eccetera senza comunque farvene in meno le condizioni sicurezza quindi avete visto che c'è uno spartiacque o perlomeno c'è un criterio forte la sicurezza strutturale quindi se gli abusi sono anche strutturali e di una certa rilevanza la mia sensazione è che in questa ipotetica pace edilizia io non ce li vedo ok non so ditemi voi che siete tantissimi anche oggi tantissimi in simultanea a tanti spettatori grazie potete anche mettere un bellissimo like potete iscrivervi alla campanellina e al canale oppure al canale whatsapp così riceverete tutti i vari preavvisi ok però appunto il punto forte è la sicurezza strutturale dell'immobile vediamo io quello che mi permetto di aggiungere ai colleghi che partecipano a questi tavoli tecnici guardate dobbiamo trovare un sistema tipo l'idoneità statica che troviamo nella legge sul condono tanti illeciti strutturali dell'epoca oggi non sono sanabili con le norme di oggi non ho la doppia conformità anche strutturale non torna comunque anche con la singola conformità alle norme di oggi che vogliamo fare vogliamo forse creare un regime parallelo di sanatoria strutturale con le norme vigenti all'epoca parliamone vediamo in certi casi non c'è alternativa se non spianare intere città perché alla fine io li leggo nei commenti no mai condono una cosa ingiusta allora bisogna essere pratici o fate il mio mestiere da 30 anni allora cominciate a rendervi conto di come sta la situazione e torno a dire ora parlo per me nessuno vuole aiutare le lottizzazioni abusive gli abusivisti incalliti però torno a dire abbiamo tantissime periferie e tant'è che qui in queste anche questi comunicati si parla di difformità non si vuole salvare costruzioni costruite dal niente completamente abusive non c'è questo intento non anch'io devo dire non è un condono per come la stanno paventando ok bene e molti mi hanno detto ma ma io ho chiuso il balcone la veranda qui l'intento ci sarebbe perché ovviamente nel momento in cui non pregiudicano rischio di sicurezza per come la leggo di nuovo tra le righe poi poi c'è un altro punto che è questo il documento predisposto dal cni fa riferimento alla possibilità di sanare con più facilità alcune modifiche strutturali entro certi limiti volumetrici e allora qui andrebbe letto un po meglio le bozze bisognerebbe avere qualche documento in più però vedete mi sembra di capire che ci sia un'apertura verso anche questa difficoltà di regolarizzare illeciti vecchi immobili anche ante 67 ma anche magari roba ante 85 che anche lì diventa un problema e vedremo vedremo e qui c'è un punto interessante che mi sta molto a cuore la possibilità di dichiarare legittimo un immobile costruito prima del primo settembre 67 con difformità rispetto al progetto originale relativa la planimetria o distribuzione interna degli spazi o allievi e modifiche di sagoma ecco al di là di questa frase qui qua con rendere legittimo come automaticamente si sposta per la prima volta l'anno zero al primo settembre 67 per tutto no qui sembrerebbe diciamo primo settembre 67 ma solamente con difformità quindi o c'è una licenza edilizia ove obbligatoria perché se ero in epoca e zona in cui comunque c'avevo l'obbligo di licenza io a questo punto devo dimostrare poi anche quali sono le difformità e ci vuole la verifica dello stato legittimo comunque o l'onere della prova io devo far vedere dimostrare come quando e perché ci sono state queste difformità quindi il gioco non è semplice ah no si dichiara tutto tutto libero ante primo settembre 67 qui non traspare questo intento con questa norma con questa ipotetica norma se dovesse essere tradotta in legge diverrebbero legittime le difformità ante 67 sì ma te me le dimostri che sono ante 67 e poi di nuovo a livello strutturale il gioco è tutto da vedere poi c'è i vincoli e qui se per ora mi preoccupa il fatto che nessuno si stia ponendo il problema dei vincoli soprattutto dei paesaggistici e quelli beni culturali cioè nessuno è andato a bussare alla sovrintendenza di voi che ne pensate io mi permetto di dire cari colleghi e state lavorando a questi tavoli tecnici sarà il caso cominciare a porsi il problema della paesaggistica vogliamo rivedere i regimi della compatibilità articolo 167 perché se no tante belle parole qui non si regolarizza un bel niente a proposito superamento di nuovo questa è un'ipotesi superamento della cosiddetta doppia conformità nelle sanatorie classificando come sanabili le opere eseguite senza titolo autorizzativo se conformi alla disciplina edilizia urbanistica in vigore all'epoca di esecuzione dell'abuso dell'illecito e doppia condizione mi sembra di leggere e se dal punto di vista strutturale sono state sottoposte a verifiche collaudo da parte professionista abilitato ecco va bene ho capito quindi all'epoca sono state collaudate quindi a livello strutturale zero problemi e si vorrebbe consentire quella che ora mi torna una sanatoria formale ok però torna a dire se le mettiamo tutte in fila io non so quante cosse ci possano entrare in casi simili va rivisto il testo unico perché vi farei notare a tutti che una modifica di prospetto una finestra spostata su una facciata e là fuori è un vincolo paesaggistico non siamo mica più tanto nel campo delle difformità lievi sono variazioni essenziali sono abuse edilizi penalmente rilevanti insomma non è proprio uno scherzo da questo punto di vista ecco perché vi dico ma sarà il caso e cominciate anche a raccordarvi subito col testo unico edilizia mi fa un po' paura e non mi piace non mi fa diciamo impazzire l'idea di un decreto legge sparato in fretta e furia un po' anche per tornaconti elettorale perché tanto non ci nascondiamo dietro a un dito via per carità abbiamo bisogno di norme di semplificazione abbiamo bisogno di semplificare veramente i regime di regolarizzazione di stato legittimo magari bisognava pensarci prima cioè quando fu emanata la norma nel 2020 sullo stato legittimo e sulle tolleranze forse bisognava intervenire lì non quattro anni dopo a rendersi conto un momentino non riesco a vendere a ristrutturare un immobile perché è tutto abusivo è grazie bravi ve l'avevo detto che ci si arrivava alla svelta in una situazione di stallo da questo punto di vista infine a conclusione leggo dal comunicato molto ruota attorno a questa individuazione classificazione chiara precisa della categoria di difformità lieve appunto e chiaramente dando criterio alla sicurezza strutturale e ci mancherebbe vorrei vedere quanto lieve quanto difformità e io ve l'ho detto guardate avete da lavorare uno sulle variazioni essenziali prima cosa ma dovete lavorarci subito perché sennò rischiate rischiano di fare un buco nell'acqua rischia che questa pace fiscale la faccia il 2% come le tolleranze edilizie dei soggetti interessati quindi io direi direi insomma do questo mio contributo questa mia osservazione sperando che ai piani alti sia ascoltata e che qualcuno si ponga al problema bene io direi a questo punto altro like moment potete dovete iscrivervi al canale e mettere anche un like e iscrivervi al canale whatsapp così riceverete tutti i vari preavvisi o comunque se volete c'è anche il canale telegram qua sotto il mio blog studio tecnico pagliai punto it il mio libro ragazzi eccolo qua lo trovate solo su amazon il link in descrizione io vi auguro diciamo buon lavoro a tutti e ai miei colleghi e lavorano in questo settore ma che non addetti a lavori che hanno seguito i miei video e che mi seguono sul canale un saluto da carlo pagliai e alla prossima